350 nuovi assunti al comune di Napoli sono entrati in servizio dal primo agosto. Dopo una lunga attesa iniziata nel 2010 e dovuta alle condizioni economiche dell'ente, oggi grazie ad una precisa e ferma volontà amministrativa si è potuto procedere all'assunzione di tutti, dopo il piano di fabbisogno approvato a giugno. 59 vigili urbani, 66 tecnici economico-finanziari, 47 architetti, 35 ingegneri, 18 informatici, 33 tecnici amministrativi e 80 ragionieri più altre figure importanti, cui chiedere un impegno ed uno sforzo che innalzi la qualità dei servizi al cittadino. Sono molto contenti perché è uno sforzo amministrativo, istituzionale, finanziario, anche un'attesa così lunga per queste persone che alla fine ritrovano un posto importante per una missione importante, perché amministrare la terza città d'Italia, la capitale del Mezzogiorno è anche un momento di responsabilità, di soddisfazione e di orgoglio ed è per questo anche che ho voluto fare questo incontro, perché lavorare con l'amministrazione di Napoli non è un lavoro come un altro, è particolarmente impegnativo, richiede sacrificio, competenza, professionalità e passione. Per noi è una boccata d'ossigeno, se pensate che io ho meno della metà dei numeri della Iervolino, per non parlare dei soldi in meno della Iervolino. Queste 350 persone sembrano numeri grandi, in realtà tutto sommato sono una goccia, però è una goccia che noi utilizzeremo molto bene perché sono profili di tutti i settori che vanno dall'informatica, agli architetti, agli ingegneri, alla polizia municipale, ai ragionieri, agli amministrativi. Credo che da settembre in particolare questa amministrazione complessivamente, comprese le municipalità che avranno un gran bisogno, sarà più forte e in grado di assicurare in maniera ancora più adeguata taluni servizi essenziali alla nostra cittadinanza.